Questa è l'Azzise, ci troviamo sul lago di Garda. L'Azzise esisteva già in epoca preromana e romana, fino al 1193 era un comune libero. Sotto dominio degli scaligeri vengono realizzati il castello e le mura che vediamo tuttora, che sono serviti a difendere l'Azzise dall'assedio congiunto delle truppe di Milano, Padova e Mantua nel 1387, che però alla fine vinsero e il borgo passò nelle mani dei Visconti di Milano e poi dei Caralesi di Padova. Nel 1405 Verona si consegna a Venezia, ma l'Azzise è stato l'unico borgo a opporsi, tanto che le truppe della Serenissima dovettero conquistarla. Sotto Venezia, a parte la guerra contro Filippo Maria Visconti nel 1439, la guerra della Lega dei Cambrai nel 1510 e il sacco dei Lanzichenecchi nel 1529, l'Azzise prosperò nella pace. Questo fino alla rivoluzione francese, quando le truppe napoleoniche durante la campagna d'Italia posero qui un loro quartiere generale e si diedero al saccheggio. Poi, come tutto il Veneto, passa sotto dominio austriaco nel 1815. Durante la prima guerra di indipendenza le truppe piemontesi passano per l'Azzise prima di perdere la battaglia di Castelmuovo. Durante la seconda guerra di indipendenza furono curati dei feriti della battaglia di San Martino, ma solo dopo la terza guerra di indipendenza nel 1866, l'Azzise, come il Veneto, entrano a far parte del Regno d'Italia.